Finisce ragazzi, adesso, mamma mia, altra vittoria, Inter-Torino, risultato finale 2-0, doppietta di Akan Cialanoglu. Prima di partire col video, però ragazzi, vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e soprattutto di lasciare un bel like al video, ragazzi, per supportare tutti i miei contenuti. Inoltre vi lascio in descrizione il mio link Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi se ancora non lo fate e soprattutto il link di Calcio Hitmania, il miglior sito di maglia da calcio a prezzi scontatissimi e con il codice Gabri03, tutto attaccato e tutto minuscolo, avrete un ulteriore 10% di sconto, quindi mi raccomando. Allora ragazzi, diciamo che il primo tempo non l'avevamo approcciato nel modo giusto, o almeno il Torino era sceso in campo molto più determinata di noi. Diciamo che c'erano stimoli ben differenti, sì, noi comunque avremmo voluto, siamo scesi in campo per vincere una partita, per vincere da campioni d'Italia, vincere davanti ai nostri tifosi. Però dall'altra parte c'era un Torino che ancora matematicamente può lottare per una posizione valevole per le Coppe Europee, quindi sicuramente un Torino che sarebbe sceso in campo non per, ripeto, riuscire a limitare i danni, ma per portarsela a casa. Nel primo tempo però gioca molto meglio il Torino, giocano molto meglio loro, un paio di occasioni con Dovan Zapata le hanno avute, con Sommer che ha fatto delle buonissime parate. Tiri centrali da parte di Zapata, però molto potenti e Sommer è stato anche lì molto bravo a evitare che il padrone entrasse in rete. Una piccola sbavatura da parte di Sommer, comunque diciamo che nel primo tempo ha fatto un passaggio in verticale che ha permesso al Torino di recuperare palla, per fortuna però non è successo nulla. Ripeto, tutti un po' sottotona nel primo tempo, però ripeto ragazzi, ci può stare, cioè non possiamo dire nulla. Uno scudetto vinto, sì, sicuramente, ripeto, c'era la voglia da parte nostra di vincere. Però comunque nel primo tempo, ripeto, il Torino è sceso molto più determinato e molto più cattivo agonisticamente rispetto a noi. Diciamo che mi sono un po' stranizzato, un po' stranito del fatto che comunque non abbia fatto tutto questo turnover, mister Inzaghi. Io per esempio, sinceramente, avrei fatto giocare per esempio un Audero oggi, perché secondo me se lo merita. Alla fine ragazzi non si è mai lamentato, ok? Jäker sicuramente ragazzi si sa, insomma era il titolare indiscusso, almeno per quest'anno, però comunque un Audero, che secondo me è un ottimo portiere, l'avrei fatto giocare, però ripeto, ha deciso così il mister. Infatti ragazzi, tutti i titolari oggi, tranne, se possiamo definirli non titolari, ha giocato Carlos Augusto sulla sinistra al posto di Di Marco e ha giocato Zevrai al posto di Acerbi, se possiamo definirli i panchinari. Quindi ripeto ragazzi, un primo tempo dove il Torino ha fatto meglio, avrebbe meritato anche magari qualcosina di più dello 0-0 all'intervallo, però ragazzi finisce così. Nel secondo tempo l'episodio, che poi ragazzi comunque deciderà la partita, è il Rosso dato a Tamezze, praticamente un contropiede, ragazzi bellissimo, una triangolazione con Lautaro, che appoggia per Mkhitaryan e che praticamente sta andando in solitaria verso la porta, con Tamezze dietro, che praticamente lo falcia, perché diciamo che Mkhitaryan è molto intelligente, si mette davanti a Tamezze in modo tale da tagliargli la strada, Tamezze non riesce a interrompere la corsa, praticamente si ingarbuglia le gambe con quelle di Mkhitaryan e che poi cade a terra. Inizialmente l'arbitro, che ricordiamoci oggi tutto al femminile, l'arbitrato tutto al femminile è molto contento, alla fine secondo me ha fatto un buon arbitraggio, dà il giallo a Tamezze e poi viene richiamato dal VAR e decide poi di estrarre il Rosso per Tamezze. Ora, molti dicono che c'era, molti dicono che non c'era, ragazzi per me il Rosso c'era, perché ok, sì, non mi viene da dire che c'era Lovato, ragazzi, Lovato era completamente 5 metri più in là perché stava tenendo un altro giocatore nostro, quindi ragazzi, ok che Mkhitaryan magari leggermente si stava defilando, non stava andando proprio verso la porta, stava andando leggermente deviato verso destra, però ragazzi nel caso in cui Tamezze non gli blocca la strada, Mkhitaryan non la stoppa, si raddrizza il pallone e tira in porta. Quindi ragazzi, per me giusto il cartelino rosso, magari fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Per quanto riguarda invece i gol, doppietta di Ciala, ce l'ho contro al Fanta questa giornata, ma poco me ne frega, poco me ne frega se perderò questa giornata al Fanta. La cosa più importante per adesso è la mia Inter, ragazzi fa un gol al volo su 1-0, una palla messa in mezzo per lui sul secondo palo, lui si coordina, la fa rimasta una volta, poi ragazzi di collo pieno incrocia con Milinkovic che può solo guardare, quindi 1-0, poi il 2-0 arriva su un rigore procurato da Turam, fallo fatto da Lovato, stava andando, Cialanoglu prende il pallone, va a darglielo a Lautaro, bellissima questa scena, e il capitano che gli dice no 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 no, battilo tu, battilo tu, c'è là che gli dice sei sicuro e lui sì sì sì, sono sicuro, battilo tu. Ragazzi Cialanoglu che fa un altro gol, clamoroso sotto al 7 ragazzi, cioè veramente non sbaglia più uno, 100% per adesso in questo campionato per Cialanoglu, e 100% di rigori segnati da quando io all'Inter, quindi veramente ragazzi un fenomeno. Oggi non segna solo da calcio di rigore come dicono molti, che molti dicono è, ma segna solo su calcio di rigore, segna anche da azione manovrata, bravissimo Cialanoglu, migliore in campo. Ripeto ragazzi, fatemi sapere voi la vostra qui sotto nei commenti, adesso di pomeriggio i festeggiamenti è tutto, lasciate un bel ecco video, noi ci vediamo nel prossimo video, e sempre Forza Inter.